I repubblicani australiani stanno spingendo per proporre un modello per una repubblica quest'anno con la famiglia reale ritenuta non più appropriata in Australia, ha affermato la politologa professoressa Jenny Hawking, oggi, gli australiani celebrano l'Australia Day in occasione dello sbarco della prima flotta a Sydney Cove e del successivo innalzamento della bandiera dell'Unione da parte dell'ufficiale di Marina Britannico. Arthur Phillip. La flotta di 11 navi stabilì una colonia penale a Port Jackson 234 anni fa e segnò la proclamazione della sovranità britannica sulla costa orientale dell'Australia. Nel 1901, le sei colonie britanniche nella regione Nuovo Galles del Sud, Victoria, Queensland, Australia Meridionale, Australia Occidentale e Tasmania si unirono per formare il Commonwealth dell'Australia, in un processo noto come federazione. Sebbene l'Australia sia diventata autonoma, ha continuato a essere il dominio della monarchia. Negli ultimi anni, tuttavia, fasce di australiani hanno chiesto che il paese diventasse una repubblica. L'Australia ha persino tenuto un referendum sulla questione nel 1999, sebbene i repubblicani siano stati sconfitti in parte a causa di un disaccordo su quale metodo sarebbe stato proposto per la selezione del presidente. Eppure il professor Hawking, che in precedenza era un membro del Comitato Nazionale dell'Australian Republic Movement, ha detto a Express.co.uk che quest'anno l'organizzazione proporrà un modello per una repubblica, parlando alla fine del 2021, ha detto, le cose si stanno muovendo in termini di proposta di un altro modello. Hanno, lavorato molto duramente su questo nell'ultimo anno e che sarà lanciato nel prossimo anno. Quindi la speranza è che sarà una decisione di un partito politico far passare questo attraverso il Parlamento, o presentarlo al Parlamento come possibile referendum, ci sono molte fasi da percorrere prima di arrivare alla possibilità che si tenga un possibile referendum. Richiede un referendum da sottoporre a tutti gli australiani per sostenere una mossa verso una repubblica.